Ciao a tutti da Poderac, in questi giorni siete stati in tantissimi a scrivermi riguardo i crash di Eurotrack Simulator 2 Giocate e dopo un po' vi crash oppure subito vi crash Per quale motivo? Perché ci sono state delle modifiche sostanziali nell'aggiornamento, soprattutto nella 1.32 Questo tutorial non vale solo per la 1.32, vale anche per il futuro perché non si sa mai faranno altre modifiche di questo genere Che cosa è successo? Modificando il codice del gioco alcune mod adesso vanno in conflitto Quindi il salvataggio a seguito delle mod vi crash e quindi non potete più giocare tranquillamente su Eurotrack Simulator Qualcuno di voi mi dirà, Poderac ma io ho disattivato tutte le mod, come mai mi continuo a crashare? Anche se le avete tolte lasciano rimasugli di file all'interno del salvataggio Non si riesce a togliere completamente queste modifiche perché non si sa dove vanno a mettere mano Il salvataggio di Eurotrack è un po' particolare Quindi una volta che si è installata una moda e si fa il salvataggio Si è consapevoli di aver modificato il gioco e quindi in caso di aggiornamento e di crash non ci si può far nulla L'unica soluzione che funziona al 100% che non vi fa crashare di nuovo il gioco è quello di cancellare il vostro profilo di gioco E ricreare una nuova partita, questo ovviamente vi farà perdere tante ore di gioco e non è bello In questo video cercherò di salvarvi il salvataggio in qualche modo e per farlo seguiremo questi passi Andiamo in Esplora File e accediamo all'interno della cartella documenti che si trova praticamente in tutti i PC Perché dobbiamo accedere in questa cartella? Perché c'è il salvataggio di Eurotrack Simulator 2 e anche American Truck Simulator Volendo la tecnica è sempre la stessa Accedete in Eurotrack Simulator 2 e potete notare una cosa particolare Ovvero che ci sono tutte queste cartelle che si chiamano appunto BAC Non so se lo fa anche su Eurotrack Simulator non su Steam Nel caso io vi consiglio sempre di passare Eurotrack Simulator su Steam È gratis, non dovete ricomprare il gioco, basta che mettete la key di nuovo su Steam Vedete, lui ogni volta che si aggiorna vi fa un backup Quello che potete fare per risolvere il vostro problema è quello di ricordarvi quando avete messo determinate mode Vi ricordate che avete messo la ProMode alla versione 1.26? Che cosa fate? Ripristinate il salvataggio 1.25 E come si fa? Allora, il salvataggio principale si trova nella cartella Profiles Quello che dovete fare magari è rinominarla e scrivere nuova versione La rinominate in modo da ricordarvi che questo è il salvataggio principale Andate a cercarvi la cartella dove secondo voi vi pare di non aver fatto uso di mod E la rinominate con un doppio clic in Profiles 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 Ok? Fate invio e in questo modo avviando Eurotrack Simulator 2 Ok, avrete perso un po' di lavori ma è sempre meglio di riniziare il gioco da capo Un modo per capire se il vostro profilo è corrotto da mod E' quello di fare ciò, ovvero abilitare la console sviluppatore Come si fa ad attivare la console sviluppatore? Dovete sempre accedere in documenti Eurotrack Simulator 2 Andate nella cartella config.cfg Fate tasto destro, apri con, fate blocco note Ok? E vedete ci sono tutti questi parametri Fate CTRL T per avviare la ricerca e cercate console Vediamo giù, vedete c'è scritto G console Io ho già 1, voi troverete 0 Dovete sostituire con 1, in questo modo E vi si abiliterà la console E adesso potrete chiudere il block notice Chiudiamo anche questa cartella Avviamo Eurotrack Simulator 2 Ok, come vedete ho il salvataggio vecchio Basta che fate su continua Aspettate che il gioco si carichi Fate anche dopo su guida Ok, adesso siamo dentro il gioco Cosa dobbiamo premere per abilitare la console? In modo da vedere se ci sono degli errori Dovete premere qual tasto che si trova Avete presente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vicino all'1 a sinistra c'è un tasto Tipo una barra Che se lo premete vi abilita appunto la console Questa console vi permette di trovare tutti gli errori Addirittura potete filtrare adesso nella 1.32 E mettete Error e Warning I Warning sono quelli in giallo E non sono quelli che causano problemi di crash Quelli che causano crash sono quelli in rosso Ad esempio qui mi dice che non ha trovato il profilo selezionato Ci sono alcuni problemi In realtà qua non ci sono tantissimi problemi Perché a me appunto non mi crasha Però ci sono degli error in rosso Soprattutto magari di città mancanti Perché avete utilizzato in precedenza una mod di una mappa Oppure mancanza di camion che avete aggiunto voi Questo comporta dei veri problemi al vostro salvataggio In questo caso avete due alternative come sempre Nel primo caso avete la possibilità di ricreare il gioco Però perdendo le ore di gioco E non è bellissima la cosa La seconda alternativa è quella di provare quello che vi ho spiegato nel video Ovvero di andare nella cartella Cercare un salvataggio vecchio dove non avete fatto uso di mod Rinominare la cartella e provare a vedere se funziona Poderac il multiplayer causa crash Allora fino adesso a me personalmente non mi ha mai creato problemi Ok? Qualche cosa lo fa al profilo causa qualche errore Però non sono errori Che cosa vi consiglio di fare per evitare problemi È quello di creare un salvataggio apposta per il multiplayer Distinto dal single player Se avete mod cercate di farvi i backup nel senso Fate il salvataggio Eurotrack senza mod Fate il salvataggio Eurotrack con le mod Così nel caso in futuro dovesse succedere qualcosa Avete comunque il vostro bel profilo salvato Ok non è molto facile perché magari si fanno tanti viaggi con le mod E dopo è difficile tenere tutti e due i salvataggi sincronizzati Però si tratta di scelte Attenzione non tutte le mod sono maligne Ci sono alcune mod che infatti non mi hanno mai casato niente Io avevo una mod di una mappa che estendeva l'Italia E non mi ha causato problemi nella 1.32 Avevo una mod dei trailer personalizzati Non mi ha creato problemi Ma perché erano mod stand alone? Io vi consiglio tanto le mod stand alone Se invece sono delle mod che iniziano a sostituire questo o quell'altro Il problema diventa più difficile da risolvere Ad esempio la Pro Mod mod modifica tutto E in quel caso ritornare a Eurotrack Simulator originale diventa un casino Comunque io spero di avervi aiutato in qualche modo in questo video Se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale Vi consiglio invece di contattare direttamente l'assistenza in forum.scssoft.com Lì vi aiutano in tanti e se ci sono dei bug non dovuti da voi li riparano Quindi vi consiglio di andare lì Magari vi lascio il link in descrizione Mi raccomando seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram che trovate qui sotto in descrizione E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao